Dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, la Regione Toscana ha immediatamente avviato, in accordo con enti locali e i dipartimenti di ingegneria delle università di Pisa e di Firenze, un'imponente opera di verifica dello stato di salute dei ponti e dei viadotti situati lungo le strade regionali e provinciali. A controlli conclusi, la Giunta Toscana ha stimato in circa 60 milioni di euro i fondi necessari per intervenire e, in attesa che il Governo stanzi queste risorse, ha anticipato i fondi necessari per cominciare i lavori su 39 ponti, di cui 28 fanno parte di un campione di 164 opere individuate come prioritarie e 11 sono di competenza provinciale. Per quanto riguarda i ponti sulle strade regionali, i 34 a cui se ne sono aggiunti altri 11 che sono stati segnalati dai soggetti gestori che hanno il compito di una vigilanza continua e che sono in Toscana le province, abbiamo inteso anticipare i tempi e prevedere nel bilancio del 2020 e del 2021 ben 12 milioni che con una delibera fatta in questi giorni abbiamo proprio destinato alle province per poter avviare progettazioni e per poter fare appalti e fare gli interventi. Le opere ora finanziate dalla Giunta regionale dovranno essere rendicontate entro il 31 gennaio 2022. Riteniamo che la sicurezza sia ovviamente una priorità e quindi abbiamo inteso fare questo sforzo, anticipare queste risorse, dare insomma modo di intervenire perché lo stato delle infrastrutture che ripeto ad oggi non pongono nessun rischio di stabilità potessero aggravarsi e magari portare domani a dei provvedimenti che vogliamo evitare intervenendo anticipatamente o comunque tempestivamente.